Siamo stati molto chiari sulle nostre ambizioni e per questo dobbiamo essere realistici, ambiziosi e ottimisti allo stesso tempo. Brandon lo ha detto di recente che finire tra le prime quattro in Premier e passare il nostro gruppo di Champions League è uno dei nostri obiettivi principali al momento. Poi vedremo, di certo vogliamo migliorare. Migliorare può essere vincere una partita o il campionato, ma ci sono ancora tante partite da giocare. Finché noi ci comportiamo come lo scorso campionato e come abbiamo fatto fino ad ora, saremo in grado di fare bene con Brandon e la squadra. Le nostre ambizioni e i nostri desideri sono quelli della nostra gente. Certamente non abbiamo intenzione di molare e daremo sicuramente tutto fino alla fine.